Un saluto cari amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV. Vi voglio parlare, oggi in questo video editoriale, di Nicolo Barella, del grande Nicolo Barella. Adesso c'è stato il comunicato ufficiale e sono andato un po' a rivedermi quello che già ha rappresentato, sta rappresentando e davvero io mi auguro continui a rappresentare Nicolo Barella per l'Inter. Però io sono prudente ragazzi, il calcio è cambiato. Spiego che cosa voglio dire. Io ho avuto un altro NB come idolo, Nicola Berti, che a sua volta così omaggiava proprio Nicolo Barella appena arrivato con proprio le iniziali. Diceva c'è un altro NB dopo di me nell'Inter che farà tanta strada, Nicolo Barella. Questo lo si diceva nel 2019 perché ragazzi sono già cinque anni che Barella è all'Inter. E adesso ha firmato per altri cinque. Vorrebbe dire dieci anni all'Inter dal 2019 al 2029. Per un calciatore nato nel 1997, arrivato quindi all'Inter giovanissimo, uno straordinario colpo di mercato che nel frattempo è anche maturato più di quanto io credessi perché ha fatto non solo ogni tanto il capitano dell'Inter, ha avuto la fascia di capitano, mi pare proprio in una partita contro il Cagliari ed era già stato giovanissimo il più giovane capitano nella storia del Cagliari. Io adoro Barella perché ha un carattere anche fumantino, nel mio piccolo, ricorda molto me stesso nel giocare a pallone, è un continuare sbracciarsi, un continuare insomma a volte a fare sempre meglio. E allora direte Gianluca ma perché ci stai dicendo attenzione però? È una notizia bellissima ma io non ho dubbi che questa sia una notizia bellissima. Come notizie bellissime sono praticamente i miei aspetti comunicati ufficiali, i rinnovi naturalmente di Simono Inzaghi, vedremo se fino al 2027 pieno o con l'opzione fino al 2027 e di Lautaro. Stavo riflettendo però sul fatto che il calcio di oggi è cambiato ragazzi, quindi stavo pensando ma veramente nel 2029 tra 5 anni, 5 intere stagioni, Barella avrà 32 anni, io avrò ancora Barella all'Inter, ovviamente mi piacerebbe tantissimo. Poter dire Barella all'Inter a vita come dice il contratto, perché poi il contratto dice tutto sommato questo, mi piacerebbe così, vedere nel futuro e dirvi fantastico, abbiamo avuto un giocatore meraviglioso, meraviglioso, per dieci anni più forte, oggi centrocampista italiano non ci sono dubbi, record man di assist con 12, è vero ha segnato qualche gol in meno ma chi capisce di calcio sa perché, perché quest'anno grazie a Simono Inzaghi anche per far spazio a un altro grande frattesi, Barella ha anche modificato il suo modo di giocare, più che incursore è diventato regista, giocatore straordinario ragazzi, quindi sono felicissimo, però ogni tanto io continuo a raccomandarvi la vita è adesso, ogni tanto viene anche a me di andare nel futuro e di dire cavolo ma io mi godrò ancora Barella nel 2029 perché sarebbe meraviglioso. Ed è qui che adesso vi dico, vabbè ragazzi voi siete felici, ma felici per cosa? Lo vedete come va il calcio d'oggi, giocatori che magari firmano per 3-4 anni e poi al primo, alla fine del primo, del secondo anno, ti lasciano. ti lasciano perché hanno opportunità di carriera che all'epoca in cui sono cresciuto io, io sono figlio insomma, anagraficamente degli anni 60, calcisticamente degli anni 70 e 80, era il calcio di Zenga, di Bergome, di Breme, di Maldini, poi se volete anche di Zanetti, di Franco Baresi, per citare gli altri, era quel calcio in cui veramente i calciatori arrivavano, sto pensando anche al compianto Gaetano Scirea preso dall'Atlanta e diventavano i simboli di una grande squadra e in questa grande squadra chiudevano la carriera e quindi da un certo punto di vista, ripeto, record di assist, un giocatore che ha anche maturato, si è disciplinato, non a caso ha avuto la fascia di capitano con mia grande sorpresa, anche da Spalletti, nell'amichevole con l'Ecuador, è un giocatore meraviglioso, l'Inter, ragazzi voi non me ne rendete conto, siamo tutti qua, i gol di Lautaro e tutto quello che volete voi, i rigori di Cialanoglu, i lanci di Cialanoglu, ma ragazzi ma Barella, Barella è l'anima nera azzurra, vera, è uno che ha fatto un rinnovo tra l'altro neanche esagerato per quello che ha suo valore il miglior centrocapista italiano e ci mancherebbe che non fosse l'italiano più pagato della serie A, però da un lato poi corro anch'io avanti e dico cavolo ma io me lo godrò perché pensate 2024-25, 25-26, 26-27, 27-28, 28-29, per come la vedo io io spero che Barella poi rinnovi per altri tre anni, sia ancora in grado veramente di essere e essere quello che è stato Zanetti, per citare il più recente, ma potrei dire quello che è stato Bergomi, quello che è stato, anche se Ferri e Zenga poi gli ultimi anni della loro carriera già all'epoca, nel 94, dovettero lasciare l'Inter. Quindi mi viene da andare un po' avanti con la mente e dire cavolo ma veramente mi godrò Barella fino al 2029 perché io già mi sto lustrando gli occhi, questo ha già firmato tutti i trofei dell'era Zanga, questo è un punto assolutamente fermo dell'Inter nazionale e della nazionale. E quindi dovete essere felici ragazzi, però siccome sono stato ammorbato da tutti questi, ma allora Lautaro firma, Barella firma, sì firmano tutti, ma questa non è la garanzia che resteranno con noi per sempre, io questo vi voglio spiegare, ve lo voglio dire prima che poi accadano le cose, perché poi le cose possono accadere, perché se Barella fa un'altra stagione monstre, lasciamo perdere adesso l'europeo, la gente non ha bisogno di conoscere Barella attraverso la nazionale, o sì o comunque già lo conosce, ma pensate se fa un'altra stagione da mostro nell'Inter. Ma voi volete che l'anno prossimo il Real Madrid, il Manchester City di turno, i mamma santissima, quelli che hanno tanto denaro e che se vogliono ti portano via un giocatore dalla sera alla mattina, non si rivolgano al nostro Barella. Ragazzi per questo vi continuo a dire, siate felici perché Barella per altri cinque anni all'Inter dopo i cinque anni che ha fatto è qualcosa di incredibile, di meraviglioso, di identitario, perché è chiaro che lo metto già nella galleria dei grandissimi che mi hanno fatto sentire orgoglioso di essere italiano e interista, sto pensando a Giacinto Facchetti, a Sandro Mazzola, a Viezzanetti che ormai considero praticamente italiano, a quelli che vi dicevo prima, a Bergamo e a tutti i giocatori che sono stati con noi con questa magica squadra veramente per decenni, per tutta la carriera, è quella importante. Però tutta questa felicità che oggi magari avete, ah Barella sarà per sempre l'Inter, occhio ragazzi, e lo stesso vale per Lautaro, e lo stesso vale per Inzaghi, per questo vi invito ancora una volta, proprio nel giorno, in questi giorni di massima felicità, ragionate ormai stagione per stagione, perché il calcio di oggi è profondamente diverso da quello dei metini. Una volta firmavi i contratti con le strette di mano, non avevi bisogno, vedi un po' anche Lautaro, di chiedere un aumento nel 2024 quando il tuo contratto scade nel 2026 e voi pensate che anche quando Lautaro raggiungerà il nuovo accordo si sia tranquilli fino a quella data lì? Non sarà così. Per questo vi dico, viviamo alla giornata, alla vita e adesso, come diceva Claudio Baglione, e adesso è sicuramente il momento di essere felici. Mi piacerebbe salire sulla macchina di tempo, andare al 2029 e vedere Barella che va ancora in sede per firmare l'ennesimo contratto colline. Ma tutto sommato è bello vivere il momento. Consci che le sorprese e poi le cose più incredibili in questo calcio di oggi che va così veloce come la vita sono sempre dietro l'animo. Però ragazzi, viva Niccolò Barella. Sempre viva Niccolò Barella, fulgido simbolo nerazzurro. Ciao a tutti.